salve a tutti oggi andremo a vedere come si fa registrare il lo schermo del nostro iphone appunto un senza utilizzare applicazioni di terze parti andiamo su impostazioni e andiamo a cercare il menu centro di controllo selezioniamo quel menu e nella prossima schermata andiamo su personaggio personalizza controlli ecco qui infatti che registrazione schermo è già attivata è aggiunta al mio centro di controllo ovviamente questa applicazione se non è abilitata la possiamo trovare in mezzo a queste altre opzioni infatti io potrei volendo rimuoverla e a questo punto eccola lì la vedo tra le altre registrazione schermo e la posso riaggiungere in questo caso una volta riaggiunta io posso andare sul mio centro di controllo e eccola lì appunto attiva che sta in questo momento registrando se io dovessi fermare la registrazione appunto vedrei questo messaggio in alto che mi dice che la registrazione sarà salvata nel menu foto andando quindi su foto eccola lì salvato come video tra le mie foto e i miei video spero che questo video vi sia di grande aiuto e alla prossima ciao